I miei neri affacciati di tutti, da sentiti sta musica bella E non mi asciughi fare in tonnetta, e l'intrumino di qualità Sapvi fare i palati di fondo, e con sari padre dei quadri Sapvi fare i palati di fondo, e con sari purneta Sapvi fare i palati di fondo, e con sari purneta E sari purneta, e con sari purneta Mi stagna la paletta, l'umidità ricca La tua giornata non sarà detto, non ha nessuna amoria accusata La paletta talmente sfondata, che a vivi la fascia pietà Ma stupendo però si confondi, a tu porti la pezza inchiappata Poi c'è una lampetta lussata, come un specchio lucente da qua Passa l'umidità, l'umidità di con salì con mezza Mi stagna la paletta, l'umidità ricca Passa l'umidità, l'umidità di con salì con mezza Mi stagna la paletta, l'umidità ricca La tua femmina su da San Carlo, l'umidità di lunga via sfasciato Mi sfumaggio l'umbo rinsato, e chissà heating fuori li fa Ma sciopi da uno, l'umidità di con salì con mezza Passa l'umunità, l'umunità di moneta, dista un'yala pareta, l'umunità regga. Passa l'umunità, l'umunità di moneta, dista un'yala pareta, l'umunità regga. Tutti i kiti che avete bisogno di stagnare l'acqua da retta, o che avete accostato in moneta, o quanti ti conservino più. E di tutti i kiti l'umunità, l'umunità regga giusta a qualunque misura, di l'affare forzata dall'ora, ecco pochi di mare l'amore. Passa l'umunità, l'umunità regga. Passa l'umunità, l'umunità regga. Passa l'umunità, l'umunità regga. Passa l'umunità, l'umunità regga. Visto che c'erano gruppi di vari paesi, perché non fare pure quello di part'anno? E così, giorno dopo giorno, vedendo che gli iscritti aumentavano, tante persone inizieranno a mettere a punto tutti i detti, i proverbi antichi, che si sono persi nel tempo, e quindi un giorno giù mi contatta, dicendomi, mi ha detto il permesso, possiamo fare, possiamo creare un libro, abbiamo visto che ci sono tanti proverbi, tante cose dette, perché non lo creiamo? Dice, tu vuoi? Sì, perché no? E siamo qua, sono emozionata, perché non pensavo che da un gruppo così banale potesse nascere qualcosa di bello per il paese. E un consiglio a tutti che voglio dare, fate buon uso di Facebook, perché è il nostro futuro, il mondo online è il nostro futuro. Grazie. Grazie.